Summary's Magic, anche se attenzione non abituatevi troppo a questo caldo perché ce l'hanno detto, dovrebbe tornare il frescolino e l'estate non è ancora arrivata, quindi niente cambi degli armadi mi raccomando. 8 e 11 minuti, mercoledì 17 aprile, bentornati qui a Good Morning Milano, bentornati in diretta su Crystal Radio 96.2 FM, Dab Plus e poi c'è l'App e tutto il resto che sapete benissimo come fare a seguirci, anche il sito goodmorning.milano.it è arrivata a trovarci la nostra ospite di oggi, diamo il benvenuto a Lucilla Pirovano, segretaria della funzione pubblica CGL Milano, buongiorno Lucilla. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora parliamo di un tema che abbiamo letto nei giorni scorsi sui giornali, è un po' anzi che va avanti, ahimè non si risolve, quindi abbiamo voluto giustamente averti qui Lucilla perché parliamo delle scuole civiche. Un po' sui piedi di guerra tutti coloro che sono all'interno, per una volta diciamo che la protesta è democratica in tutto, nel senso che proprio sono tutti sui piedi di guerra, perché insomma sembra un po' minacciata l'istituzione della scuola civica a Milano, giusto Lucilla? Sì Fabio, le scuole civiche a Milano innanzitutto sono il fiero all'occhiello per il mondo della cultura nella nostra città, nel senso che hanno 3.000 studenti e formano nel campo del cinema, del teatro, delle lingue, dell'interpretariato e della musica il meglio che poi rappresenta l'arte, non solo a Milano ma in Italia e anche in tutto il mondo. Sono quattro scuole di altissima formazione, famosissime nel mondo, una su tutte, se vi dico Lucchino Visconti, la scuola del cinema, Malaldo Grassi, l'altino Spinelli, sono veramente tantissime. Paolo Grassi, la Spinelli e poi abbiamo la scuola Bado di musica. La Bado di musica, insomma, sono nomi di scuole che, come dicevo prima, magari uno non collega direttamente subito alla scuola civica, che poi sentiamo bene e capiamo che cosa sono, ma che poi, quando va in giro e incontri quelli bravi, hanno fatto quella scuola lì. Esattamente. Hanno fatto una scuola che appunto è un grande elemento di merito e prezioso per un comune, che appunto tra le sue funzioni può esercitare anche quest'alta formazione. E qual è la differenza tra una scuola normale e le scuole civiche? Le scuole civiche, i nostri studenti, i nostri docenti dicono che non è solo un aggettivo ma un sostantivo, nel senso che l'idea che siano civiche non è solo, diciamo, un elemento formale, ma è proprio il modo di fare formazione, che sia una formazione di qualità altissima, ma che sia anche accessibile in termini di costi, in termini dirette e appunto sia pubblica dal punto di vista, diciamo, dell'idea di bene comune e dell'idea che si possano investire risorse pubbliche appunto per una formazione di questo tipo. Non è solo Milano. Soprattutto in queste materie è interessante perché sono materie che magari siamo abituati a volte a collegare a grandi scuole, però private, a grandi rette, milionarie quasi, mensili e quindi insomma invece c'è una possibilità a Milano. Assolutamente sì. Dicevi non solo a Milano poi. Sì, non solo a Milano perché per esempio Parigi ha 18 conservatori, scuole di musica, Berlino ne ha due ma enormi e continuano a investire e a, diciamo, a dare valore e a renderle sempre, a svilupparle. La nostra paura è che appunto il comune di Milano, dentro i tagli, dentro un momento di difficoltà di quelle che sono le risorse per gli enti locali, possa fare l'accelerata scelta di disinvestire su una realtà del genere. Una realtà che, come dicevo in questo momento, forma 3.000 studenti che non appena hanno finito o anche prima di diplomarsi, trovano dei lavori importanti, vengono cercati sul mercato e appunto fanno opere grandissime. Per esempio, fra le nostre delegate CGL c'è Marina Spada, una regista che tutti conoscono e che mi ricorda sempre, quando facciamo le riunioni, quando parliamo, che lei, suo padre, guidava il tram e lei ha potuto diventare la regista che è grazie alla frequenza della scuola Paolo Grassi appunto, che è una scuola a cui possono arrivare, c'è quella canzone che dice anche l'operaio vuole il figlio dottore, in questo caso anche l'operaio vuole il figlio regista, vuole il figlio attore, vuole il figlio che possa veramente avere una professione, una professione anche nel campo dell'arte e dello spettacolo. E tutto questo appunto è grazie al fatto che esistono queste quattro scuole, le famose quattro scuole civiche di Milano, minacciate però appunto da dei tagli, da dei tagli che non sono inventati da voce, proprio sono carta canta, cioè sono già lì pronti in realtà, quindi bisogna anzi riuscire a fermarli, in un certo senso. Sì, noi siamo convinti che riusciremo a fermarli, nel senso che appunto come dicevo sarebbe una scelta troppo sbagliata, sarebbe una scelta che assolutamente questa città non può permettersi. Sono scelte che il Comune ha messo in programma dentro i documenti contabili già per il prossimo triennio. Scusa, scusa. Appunto la nostra lotta, come dicevi Fabio. Parliamo di tagli di che entità appunto, facciamo capire un po'. Noi stiamo parlando di un contributo che è di oltre 9 milioni di euro e che nei prossimi anni potrebbe subire dei tagli fino al 65%, nel senso che per il 2026 la programmazione al momento non arriva ai 3 milioni. Ok, 9 milioni di euro su quattro scuole non è anche poi questo contributo così alto, cioè mi viene da dire. Dentro il bilancio del Comune di Milano che è di 3 miliardi. 3 miliardi di euro insomma con i contributi che dà. Che è brutto dirlo, perché poi dici ma però alla scala date X contributi, che è brutto dire devi non darli a loro, dagli a noi. Però effettivamente se ci pensi su altre situazioni i contributi sono ben più alti. Sì, dal nostro punto di vista ovviamente la cultura, l'investire sulla formazione devono essere delle priorità e la volontà politica che rivendichiamo e che ribadiamo che nella nostra lotta, che come dicevi Fabio, è una lotta di tanti, tutti insieme, quindi dei docenti, dei dipendenti stabili, dei collaboratori e tutti insieme, speriamo tutta la città, perché è importante che il nostro appello, la nostra lotta si allarghi e il nostro appello, valorizziamo le civiche, stare con le civiche deve diventare, speriamo, una battaglia sempre più ampia e che possa veramente essere forte questa voce. E allora adesso invece ci freghiamo per un po' di musica, ma torniamo ancora a parlare tra poco con Lucilla, perché appunto questo mondo delle civiche è un mondo davvero interessante. Voglio capire di più, voglio sapere di più, perché veramente questa possibilità mi piace tantissimo, quella del anche l'operaio vuole il figlio regista, mi piace. Possiamo fare una sorta di remake di quella canzone, volendo. Nel frattempo invece andiamo con altra musica, sempre qui in diretta, 331-7853-555, il nostro modo di Whatsapp, grazie a tutti voi che ci state scrivendo, continuate a seguirci, continuate a seguirci anche dopo questo piccolo spazio musicale. Andiamo avanti con Zucchero insieme a Sting con September. Zucchero insieme a Sting con September. Settembre, non siamo a settembre ma siamo ad aprile e invece raccontiamo un po' cosa sta succedendo nel mondo delle scuole civiche insieme a Lucilla Pirovano, che ci stanno raccontando appunto di questi tagli, a vostro dire, scellerati, pensati appunto dal Comune, e il 65% di tagli in tre anni, mi dicevi prima, giusto? Sì, sì. La programmazione, il PEG, il documento con cui la pubblica amministrazione, con cui l'ente locale va a programmare le uscite contabili per i prossimi anni, vede queste cifre. Cifre che ovviamente hanno spaventato noi, i lavoratori e gli studenti, e su cui appunto abbiamo aperto una vertenza e siamo in mobilitazione. Perché tutti quanti in mobilitazione gli studenti, i lavoratori, ed è importante questa mobilitazione in questo momento, anche perché fra un po' c'è una data importante per chi si vuole iscrivere invece alle civiche, giusto? Perché ne dicevi? Sì, perché tra aprile e maggio vengono aperte le iscrizioni per le selezioni per il prossimo anno accademico. Quindi è importante che le risposte da parte dell'assessore, da parte del Comune, arrivino in tempi stretti e possano garantire la continuità didattica. Tranquillizzare chi vuole magari pensare a quel percorso anche. Sì, nel senso che è un percorso che è molto attrattivo, attrae appunto talenti. Quanti anni sono di studio per le varie civiche? Un anno solo, tre anni? Ah, ok, dipende dai corsi. Il punto è che noi vogliamo che le scuole mantengano l'appetibilità che hanno finora e che appunto anche tutti i corsi siano mantenuti in termini di qualità e di quantità. Mi dicevi, avete però fatto queste domande, ovviamente non è una prima volta che le fate qua, le avete fatte direttamente anche al Comune. Cosa ha risposto e cosa dice il Comune? Abbiamo incontrato lunedì l'assessore e il direttore generale del Comune di Milano, l'assessore Sacchi, si è preso del tempo per trovare delle soluzioni. Noi contiamo... Perché tutto questo è in capo all'assessorato della cultura dei Sacchi, ok? Sì, è una fetta molto importante delle attività dell'assessorato. Ok. Gli ha detto... Fatemi pensare. Sì, ci ha detto che... Attendere, prego. Sì, noi contiamo che abbiano contezza e abbiano consapevolezza di quello che questa scelta conta, di quanto sia essenziale garantire questa continuità, questo futuro. Infatti l'appello con cui abbiamo il 19 febbraio, nel primo presidio, abbiamo scelto il futuro adesso, appunto perché un po' la formazione in generale attiene comunque alla sfera del futuro della programmazione dei progetti di vita. In generale noi crediamo che investire sulla cultura, investire in questi campi, sia davvero un investimento sull'oggi, sul domani e sul garantirci la città che vogliamo, in cui vogliamo vivere, in cui vogliamo studiare e lavorare. Oltretutto, appunto, il 19 febbraio avete fatto un presidio che non è rimasto l'unico perché adesso ce n'è un altro. Assessore, tu pensa, nel frattempo comunque ricordati che ci siamo qua e vi farete sentire quando e come. Noi martedì 23, settimana prossima, davanti al Consiglio Comunale, davanti a Palazzo Marino, faremo un grande presidio dalle 16 alle 19 in cui tutti insieme, perché Fabio dicevi siamo in tanti, ma l'unione fa la forza e quindi l'idea è che questa voce, questa lotta, possa essere il più larga possibile. La cosa interessante è che sono scuole davvero di alta formazione, lo dice anche il nome della fondazione che gestisce appunto tutto che è Fondazione Milano, ma come dicevamo prima, oltretutto gente che quasi non ha neanche finito i corsi e che già sta lavorando. Il 95%, il dato è che il 95% degli studenti, tutta anche la scuola di lingue... Trovatemi un'altra scuola a Milano che ha questa percentuale. Sì, esatto, la scuola di lingue, interpretariato e traduttore, forma dei professionisti validissimi che sono ricercati nel mondo del lavoro ancora prima di diplomarsi. Insomma, vi fa capire appunto il livello che c'è dietro a questo mondo, mondo che potrebbe rischiare però appunto perché come dicevamo prima, con questi tagli così forti, insomma, sicuramente non deve essere semplice. Come sono stati giustificati questi tagli dal Comune? Si sono stati giustificati? Dalla difficoltà, diciamo, di risorse, degli enti locali che con i tagli che sono arrivati anche dalle manovre del Governo e in generale nei tagli lineari, purtroppo sono molti anni che la spending review, come l'hanno chiamata tutti i governi che ci sono succeduti in questi anni, purtroppo non hanno investito sul mondo dei comuni, degli enti locali, ma al di là del tema della scarsità, della razionalizzazione delle risorse, per noi il punto essenziale è darsi delle priorità e per noi le civiche devono rimanere una priorità e non accetteremo nessun passo indietro in questo senso. Perché, ve lo dico io, quando vi dicono che la coperta è corta, può essere anche vero, non c'è problema, e tu decidi però da che parte tirarla. Quindi ce la puoi scegliere a quel punto, non c'è scritto da nessuna parte che vi per forza tirava da questa parte qua, quindi insomma puoi tirarla dall'altra parte, puoi scoprire una parte e scoprire l'altra. In più, forse poi, potremmo cominciare a pensare anche a fare delle piccole coperte che coprono un po' qua e un po' là, magari, che sarebbero una buona idea, perché insomma lo sappiamo, in una città come Milano, dove girano milioni e milioni di euro, vedere cose del genere fa anche un po' arrabbiare, diciamoci la verità, cioè con tutti i soldi che girano in una città come Milano, sapere che poi le civiche rischiano un taglio così forte, insomma, fa un po' girare le scatole, immagino. Sì, noi riteniamo che, appunto, la scelta possa essere solo... No, no, va bene. No, no, assolutamente, noi riteniamo che questa città non si meriti, cittadini, questa possibilità per noi, questo disinvestimento, non è assolutamente potabile e non è, diciamo... Anche perché poi quando c'è da parlare bene della città, si tirano fuori le civiche invece, no? Spesso e volentieri, no? Sono fior all'occhiello della nostra città, quindi insomma, che vengano rispettate anche in questo. Cifriamo un attimino, piccola pausa, due consigli per gli acquisti, perché anche noi in qualche maniera dobbiamo riuscire a campare con questa radio e poi torniamo ancora qui a parlare con Lucilla delle civiche. Raccontateci, voi avete mai sentito parlare delle civiche, le avete mai frequentate? Diteci un po', 331-78-53-555. A fra pochissimo! E questo era San Giovanni con Raggi Gamma alle 8.36 minuti, ultima mezz'ora di trasmissione insieme e ancora qui con noi Lucilla Pirovano, segretaria della Funzione Pubblica CGL Milano, parliamo di scuole civiche. Allora Lucilla, diciamo poco fa che appunto il presidio c'è fra pochi giorni, cosa succede, quando, come, raccordacelo bene, in modo che magari insomma se vogliamo anche venire a darvi una mano, perché no? Sì, siete tutti invitati, assolutamente. Ci vediamo martedì 23 alle 16 in Piazza Scala davanti a Palazzo Marino. Con noi ci saranno tantissimi studenti, ci saranno appunto i docenti, ci saranno gli amici delle civiche, perché poi le scuole civiche hanno formato artisti importantissimi. Ne cito solo uno, Gabriele Salvatores, che si è diplomato alla Paolo Grassi, Claudio Abbado, la Serena Sinigallia e contiamo che anche tutti questi artisti, tutti questi amici possano darci una mano in questa lotta. Insomma, nomi non differenti quelli che hai fatto, nel senso che davvero vi fa capire anche l'eccellenza appunto di un'eccellenza, scusatemi il gioco di parole, che Milano deve sicuramente salvaguardare. Dicevamo prima, poi una cosa che, Parigi quanti anni dicevi? 18. 18, capito? 4 su 18, anzi, perché tagliarle? Perché non fanno una quinta, mi verrebbe da dire? Scusa, io esagero già subito, mi faccio prendere la mano. Tra di fatto comunque appunto, allora, questo presidio è martedì, giusto dicevi? Sì, martedì 23 aprile alle ore 16. L'ore 16. Dove possiamo trovare qualche informazione in più se vogliamo sapere qualcosa di più? Abbiamo i nostri canali social, Funzione Pubblica CGL Lombardia, sia su Facebook che sul sito. Poi invece, se qualcuno invece è interessato alle civiche, so che non è la tua funzione in questo caso, di fare proprio promozione per le parole. Diciamo come funziona, adesso ci saranno le iscrizioni, mi dicevi? Sì, noi appunto contiamo di aprire le iscrizioni a brevissimo, come tutti gli anni e diciamo per tutti i corsi, tra aprile e maggio. Perché poi ci saranno le selezioni e poi l'apertura è l'avvio dei corsi nel mese di ottobre. Ecco, hai detto selezioni perché appunto non è una cosa, cioè sono scuole di alta formazione, quindi giustamente c'è anche un test d'ingresso, c'è immagino anche un colloquio motivazionale. Sì, sì, ci sono delle selezioni perché appunto la richiesta, la domanda è tanta e è importante comunque garantire la didattica, garantire anche perché è una didattica che non è solo teorica, c'è anche la pratica e c'è tutto il lavoro sul campo che appunto ne fa i talenti, che costruisce talenti e forma, come abbiamo detto, il meglio di questo mondo. Dicevi quanti studenti ci sono? 3.000, circa 3.000 sulle quattro scuole. Circa 3.000 sulle quattro scuole, con più o meno una domanda che ogni anno arriva a quante persone che più o meno, nel senso c'è... Non abbiamo i dati sui numeri, però sicuramente c'è grandissima richiesta. E' fatta che appunto le selezioni sono belle? Non solo dall'Italia, ma anche dall'Europa, appunto è anche l'idea che gli studenti debbano progettare le loro vite, le loro scelte, anche in termini di mobilità, richiede dei tempi, diciamo, rapidi e che le risposte possano essere concrete e arrivare il prima possibile. Quindi, Assessore Sacchi, mi raccomando, magari il 23, che già che sono lì, gli dia delle risposte, cioè, deve scendere un attimo e basta, così fa prima, se sono così gentili vengono a trovarla a casa, così almeno vengono a trovarla sotto l'ufficio, quindi ci mancherebbe. Lucilla, grazie mille, allora, davvero. Grazie a te Fabio e grazie a tutti per l'ascolto. Rimanete comunque connessi appunto alle scuole civiche, cercate un po' di informazioni, le trovate praticamente ovunque, anche sui canali social della Funzione Pubblica Cigelle Milano, e grazie mille davvero, e ci si vede allora il 23. Sì, ci vediamo il 23. E allora andiamo avanti con la musica, adesso è il momento di Giovanotti, insieme a Beni Benassi, che ci porta via con loro? No, no, ti porto via con me.